Scaviamo sulle necropoli di Pompei da 20 anni adesso e abbiamo scavato la necropoli di Porta Noscera un'edicinaia di anni e adesso siamo a un'altra necropoli importante, la necropoli di Portastabia perché abbiamo monumenti di personaggi molto importanti di Pompei. Per esempio scaviamo adesso dietro il monumento di Marco Tullio, è un personaggio importante di età augustia sappiamo che ha dedicato un tempio, il tempio di Fortuna Augusta, che è situato nel nord del Foro e qui abbiamo scavato questo tempio tra 2008 e 2013. Questo che si è aggiunto al progetto, l'interesse sarebbe di capire perché hanno costruito il monumento di Marco Tullio qui a Portastabia, quando l'hanno fatto e come è organizzato questo monumento perché abbiamo questo monumento con sedie e dietro il recinto è vuoto, senza tombe e il saggio che abbiamo fatto mostra che c'è un riempimento importante di quasi un metro poi un suolo con un'area di combustione e poi c'è un riempimento di età repubblicana e poi c'è un'altra cosa che indica che questo monumento è stato fatto in età augustia sicuramente hanno tagliato il taluto che era contro il muro della città e hanno fatto una piattaforma questo lo sappiamo oggi ma domani sicuramente sviluppiamo questi argomenti Grazie 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 Grazie